Sulla scuola avremo una conferenza già annunciata col Ministro Azzolina e quindi sarà l'occasione per un po' illustrare tutti i temi della scuola. Sicuramente a settembre si riaprirà, si tornerà alla didattica in presenza. Dobbiamo fare di tutto per assicurare ovviamente dopo questo periodo particolare che hanno vissuto i nostri studenti il ripristino di una fase di normalità. Ed è molto importante, io ringrazio le forze del Parlamento, i parlamentari perché nel decreto, quello sulla scuola, è stata introdotta un emendamento che noi abbiamo come Governo subito approvato che consente a tutti i sindaci, 8.000 sindaci d'Italia, di poter diventare commissari straordinari per realizzare opere in tutta urgenza di edilizia scolastica. È importantissimo, quindi potranno partire subito, ci attendiamo aule più conformi alle prescrizioni ovviamente di sicurezza sanitaria, ci aspettiamo aule rinnovate a settembre. Ci sono le risorse finanziarie, abbiamo introdotto lo strumento normativo, adesso siccome con Anci lavoriamo spesso, loro ci daranno una grande mano per perseguire questo risultato a beneficio dei nostri piccoli e dei nostri grandi.